ciao teutonici benvenuti alle langhe siamo in griglia di partenza siamo puntuali oggi con il gruppo locale abbiamo raggiunto il record quindi oggi abbiamo il gruppo più numeroso che c'è mai stato un nostro raduno siamo in griglia di partenza manca ancora qualche equipaggio ma bellissimo bellissimo oggi faremo 100 km nelle langhe e c'è di tutto c'è di tutto sono arrivati tutti siamo in griglia e tra poco si parte grazie veramente a tutti quelli che sono arrivati e speriamo sia una bellissima giornata si riparte eccoci qua fermi raduno le langhe raduno bagnato raduno fortunato ce la stiamo facendo da che andiamo a averci lo spritz che roba che roba ok 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 ci siamo ci siamo abbiamo intasato tutto adesso andiamo a fare l'aperitivo eccoci arrivati in piazza la morra stiamo facendo l'aperitivo andiamo andiamo da uno degli organizzatori andiamo da uno degli organizzatori dov'è sergino sergio commento a caldo come sta andando tutto bene siamo che il gemellaggio nord oeste ottonico abbia fatto il boss ora ha fatto il botto abbiamo fatto il boss tutti gli anni ragazzi abbiamo fatto il botto bellissimo bellissimo ragazzi percato che per chi non è riuscito a venire però benvenuti a villa pattono l'equipaggio è arrivato è andato tutto bene siamo per iniziare l'aperitivo il jerry è pensieroso è stanco vi faccio vedere la meraviglia delle langhe si è anche aperto grazie veramente a tutti grazie a sergio grazie a roberto adesso ci sediamo a tavola e poi si rientrerà bellissimo è andata bene 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 ecco la mia piccola ok